Lavori all'oratorio Pio Decimo, una società di calcio sfrattata, tra virgolette. Però i piccoli calciatori dell'Aurora San Nicolò hanno già trovato una nuova casa, proprio nel quartiere. Anche la parrocchia ha dato una mano, può partire il servizio. Giuseppe Buscario, il presidente dell'Aurora San Nicolò Calcio. Oggi parliamo di calcio come valenza sociale, calcio che aiuta i giovani a inserirsi nella società. Ed è per questo che avete coinvolto molti quartieri di Portogruare, molti genitori. Sì, da quest'anno siamo in questa comunità di San Nicolò, perché ovviamente tutti sanno che l'Aurora non è più in oratorio. E ci siamo spostati in questo oratorio per continuare la grande missione di programmare campionati giovanili e promozionale per quanto riguarda il settore giovanile. Ecco, ricordiamo, voi in qualche modo avete cercato un campo perché all'Aurora stanno facendo, sono iniziati, dovranno iniziare i lavori in qualche modo per il nuovo parcheggio. C'è stata anche una polemica abbastanza vivace in Consiglio Comunale e comunque avete trovato la disponibilità della parrocchia di San Nicolò qui a Portogruare. Sì, noi ringraziamo Don Elvio che ci ha ospitato in questa struttura e così una piccola parentesi volevo dire ringraziare tutti quelli che nei 65 anni di Aurora hanno dato il loro servizio e soprattutto quelle persone che nei 65 anni fa hanno donato un campo di calcio perché sorgesse una squadra di giovani ragazzi. Ringrazio tutti con grande calore. Ringrazio tutti con grande calore.